Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Adesso, come vi avevo promesso, vi vado a parlare in questo video della mostra dedicata a GoPrat che ho visitato un paio di giorni fa con la mia compagna e che si svolge a Recanati. Questa è la locandina che ho già postato sulla mia community ma che vi metterò nuovamente. Qui dietro vengono riportati gli orari, le date. Si chiama Adolisse a Corto Maltese, viaggia all'immaginario di GoPrat, si svolge nel Palazzo Museo Civico di Villa Colloredo Mels, si trova praticamente accanto al Duomo ed è stata inaugurata il 25 di agosto, quindi la settimana scorsa, lo scorso weekend, rimarrà in cartellone fino al 7 gennaio 2024. Quindi c'è ampio tempo per visitarla, anche perché pare che già dai primi giorni si attirano un pubblico numeroso anche dall'estero. Onestamente quando siamo andati noi era il primo lunedì, praticamente all'apertura, perché la mostra ha più o meno come orario 10.13, 15.19, ma questo poi ve lo indicherò meglio e comunque gli orari cambieranno un po' con l'approssimarsi dell'inverno. Però diciamo che in linea di massima l'apertura è la mattina a tre ore e il pomeriggio oltre tre. E in questo palazzo, oltre a ospitare chiaramente questa mostra temporanea, in questo Museo Civico troviamo anche una sezione archeologica dedicata appunto alla preistoria delle Marche, una sezione storica, quindi con tutto il Medioevo, la parte papale perché le Marche facevano parte dello stato della Chiesa, Rinascimentale, sezione leopardiana chiaramente perché essendo recanati dalla città di Leopardi tutto impregnato della vita di Leopardi, tant'è che noi siamo andati lì con la scusa della mostra, abbiamo anche colto chiaramente l'occasione di prendere due piccioni con una favola, come si suol dire, ossia visitare anche i luoghi leopardiani. E infatti quello è assolutamente qualcos'altro che vi consiglio di vedere perché Palazzo Leopardi è interessantissimo e si respira proprio l'atmosfera che si vive sui libri quando studiamo a scuola Leopardi. E poi, prima di accedere comunque alle stanze in cui è allestita questa mostra di Ugo Pratt, si passa da una parte in cui troviamo delle opere rinascimentali di Lorenzo Lotto. è tutto collegato perché considerano essere due autori equiparabili da un punto di vista immaginifico, diciamo così. Prima di andar via, noi l'abbiamo fatto all'inizio in realtà, a Piano Terra si visita anche la parte museale dedicata all'immigrazione dei marchigiani, quindi sia nelle Americhe, attraverso i piroscafi, che in Europa con i treni. Si parla anche della tragedia di Marsinelle. Quindi è interessante, soprattutto per i tempi che corrono, affrontare questo aspetto. E tutto questo al modico prezzo di 7,50€. Comunque, trovate il sito, le indicazioni ve le metto io perché non è specificato il prezzo, le tempistiche, giorni di apertura. Bisognerebbe mandare una mail, quindi comunque per quanto possibile vi darò una mano io. Comunque, dicevo, questa mostra, che quindi ha anche una durata abbastanza lunga, 4 mesi, va a ripercorrere la carriera e soprattutto la vita di Ugo Pratt. Perché ci sono vari aspetti che mi hanno colpito. Strutturata in 4-5 stanze, c'è anche una parte interattiva con un filmato, un documentario di Ugo Pratt molto interessante, da cui adesso vi estrapolerò qualche notizia significativa. Ugo Pratt nasce a Rimini nel 1927, per puro caso, a quanto pare, perché la madre pare si trovasse lì in vacanza, ma lui in realtà è veneziano di origini, tanto che poco dopo la nascita torneranno nella Serenissima e viverà lì la sua infanzia. è figlio e nipote di un fascista, il nonno è stato il fondatore del fascio appunto a Venezia, e il padre è un convinto iscritto al partito, parteciperà anche alla guerra e morirà tra l'altro nel 1942. E Ugo verrà addestrato in tal senso, anche lui con la camicia nera, e parteciperà anche lui a alcune battaglie, nonostante sia, o comunque alcune spedizioni, nonostante sia piccolo. Però crescendo non rinegherà questo suo passato, perché dirà io nasco in una famiglia fascista, però la sua personalità lo porterà ad avere tutto un'altra forma mentis e formazione. Si definisce infatti un anarcho-libertario, quindi non un uomo di sinistra, ma estremo, totalmente libero. E questo si vince molto, soprattutto nel documentario, oltre che nella sua opera. Poi morirà nel 1995 in Svizzera, in cui si trasferirà gli ultimi anni alla vita, ma in questi 68 anni viverà quelle che noi possiamo definire decine di vite. Scopre... ci sono due aspetti fondamentali nella sua formazione. Uno ha sei anni, quando, questo viene raccontato appunto nel documentario, viene dimenticato dalla madre al mare, prende un'isolazione, la febbre, e questo lo porta ad avere delle visioni, che poi ritorneranno spesso e volentieri nei suoi personaggi, tra cui nel più famoso corto maltese. E poi il fatto che il nonno volesse far sì che lui prendesse il suo posto nella sua attività lavorativa, che era quello di podologo. E viene raccontato dalle parole di Ugo, ma non si capisce se sia vero, se sia un sogno, perché il suo aspetto di immaginifico, o anche da bugiardo patologico erano delle caratteristiche del nostro Pratt, dice di aver visto, immaginato, non si sa bene come, se stesso a coltellare col bisturi il piede della paziente della cliente del nonno, perché non voleva fare questo lavoro, voleva fare qualcos'altro. E come impara la scrittura? Leggendo dei fumetti americani e vedendo i cieli volare dai tetti di Venezia, capisce che il suo desiderio è quello di disegnare. E infatti Ugo Pratt, per tantissimi anni, disegnerà solamente. Comincerà appunto a, piano piano, a pubblicare qualche opera, fin quando nel 1948 non verrà notato da una casa editrice argentina, che lo chiamerà, e si trasferirà a Buenos Aires insieme a tre suoi amici, che sono Alberto Ongaro, grandissimo sceneggiatore e scrittore, tra le altre anche di Mr. No e Nick Ryder, su cui poi dirò anche un'altra cosa, Ivo Pavone, anche egli grande disegnatore, che ha collaborato tra le altre con la Bonelli, per esempio disegnando lo sfortunato, le sfortunate copertine di Judas, su testi di Ennio Missaia, e poi Edino Battaglia, altro grandissimo autore. Quindi, capite bene, nel 1948, questi ragazzi, perché erano poco più che ventenni, talentuosissimi, si trasferiscono in Argentina. E lì si vede già, soprattutto molto nelle immagini, nelle riprese fatte a Ugo Pratt, come fosse una personalità spumeggiante. Infatti, viene detto che è l'autore di fumetti più fotografato nella storia, praticamente, perché lui, fin da subito, fin da quando è iniziato a scoprire il suo talento, ha capito di poter, di essere qualcuno, non di poter essere, ma di essere qualcuno. C'è una sorta di mania di grandezza, tipica degli artisti, ma che in parte è giustificata dal suo enorme talento. E quindi verrà rappresentato tanto, addirittura viene raccontato che durante, quando era ubriaco in Argentina, spesso e volentieri si lanciava dalle finestre, perché credeva di poter volare. Insomma, ha fatto una vita piuttosto movimentata. Tra l'altro, avrà numerosi figli, quattro da due compagnie diverse, e addirittura un quinto durante una trasferta in Amazzonia, durata dodici giorni per un viaggio, insomma, per andare a preparare, insomma, documentarsi su alcuni disegni che doveva fare sulla foresta pluviale. venne quasi captato dagli indios che rimasero sbalorditi da questa sua velocità nel disegnare, e trova il tempo anche di fare un figlio con una donna locale. Poi ebbe anche tante altre relazioni, visse vari periodi, acquistò una casa vicino Venezia, che divenne il punto in cui, tra l'altro, poi nacque la sua opera più importante, ossia Corto Maltese, ma visse dopo l'Argentina un periodo a Londra, che considera il peggiore della sua vita, poi tornò appunto in Italia, in cui aveva questa moglie con dei figli, e successivamente viaggiò in giro per il mondo, continuò a viaggiare in giro per il mondo, fin quando, negli anni Ottanti, trasferì in Svizzera, a cui poi morì nel 1995 per malattia. Quindi questa, brevemente, è la biografia, che si evince un po' dalle cose che ho letto, un po' da delle immagini che ho visto, anche da questo filmato, ma chiaramente non voglio aggiungere altro, perché comunque ci sono interviste ad altri autori, interviste a collaboratori, poi vanno viste le immagini, le interviste a lui stesso, altri due aspetti che vi posso raccontare, che sicuramente mi hanno colpito, sono stati, innanzitutto, la prima opera che viene rappresentata, che è l'Ulisse, del 1963, che appare sul Corriere dei Piccoli, tanto che erano presenti delle copie di questo Corriere dei Piccoli, quindi pensate, all'interno del Corriere dei Piccoli, troviamo l'Odissea disegnata da Ugo Pratt, che non era ancora Ugo Pratt di Cortomaltese, ma era comunque un Ugo Pratt del 1963, quindi già adulto, e che era tornato all'Argentina e anche da Londra. Tra l'altro i testi di questa Odissea, quindi la parte sceneggiata, è stata scritta da Franca Ongaro Basaglia. Ongaro, chiaramente, vi ricorderà Alberto Ongaro, sì, era la sorella di Alberto Ongaro, caro amico di Ugo, ma soprattutto era la moglie di Franco Basaglia, lo psichiatra a cui si deve la legge sulla chiusura dei manicomi. Infatti, Franca Ongaro è stata una scrittrice, un intellettuale, un'esponente politica e anche il Partito Comunista, quindi una famiglia di intellettuali. E quindi troviamo nella mostra tutte e trenta le tavole che compongono questa Odissea, che rappresentava per Ugo Pratt l'archetipo dell'avventura, perché Ulisse era per lui l'esempio plastico dell'avventura. E poi troviamo anche altre rappresentazioni, soprattutto Cortomaltese, che nasce nel 1967 su commissione di un editore genovese, perché un'altra caratteristica Odissea è quella che lui non disegnava mai per il gusto di farlo, ma perché aveva necessità che qualcuno gli desse un lavoro, perché lui sostanzialmente credeva nella sua capacità e credeva nel fatto che il suo lavoro dovesse essere pagato e ben remunerato. E quindi nel 1967 creerà il suo personaggio principale, che poi rappresenterà il suo io, perché Ugo Pratt non voleva essere qualcuno, ma voleva essere Cortomaltese, quindi la trasposizione di se stesso, che poi è diventato un personaggio famosissimo in tutto il mondo, tanto che poi addirittura arrivò a Parigi, venne organizzate delle mostre, è diventato un personaggio famosissimo e Ugo Pratt stesso divenne famosissimo, girò tutto il mondo, fin quando appunto poi non si spense nel 1995. Quindi, brevemente, questo è quello che ho trovato dalla mostra, perché io conosco Ugo Pratt chiaramente per fama, ma non lo conosco così bene come altri autori, quindi aver potuto vedere questa mostra in un'oretta, un'oretta e mezza circa, mi ha permesso di aprire moltissimo le mie conoscenze su Ugo Pratt, di allargarle tantissimo e sul fumetto italiano e in generale su questi pezzi a 90 che avevamo, che erano sui amici, con cui collaborava o con cui aveva anche vissuto insieme, come vi dicevo, Battaglia, Ongaro e Pavone. Per non dire poi anche altri autori americani, spagnoli, argentini, la stessa Franca Ongaro e questo. Quindi, è una mostra che sicuramente è interessante da vedere, in primis perché ci sono le tavole originali che già è quanto dire, sono delle delle bellissime dei bellissimi disegni, dei bellissimi acquarelli, poi troviamo i balloon con proprio le scritte messe, sapete quando si prepara una tavola originale, all'interno del balloon il letterista inserisce le lettere con la colla-colla, quindi vi sono anche degli errori, quindi questa è proprio dal senso dell'originalità e poi soprattutto grazie a questo documentario si è potuto capire moltissimo della personalità di Hugo Pratt che era un personaggio assolutamente poliedrico, assolutamente folle nella sua genialità e non per ultimo ricordiamoci che la Rai ha anche prodotto un cartone animato di Corto Maltese con la voce di Luca Ward che ogni tanto viene trasmesso su Re3. questo è quanto da Ulisse a Corto Maltese viaggio all'immaginario di Hugo Pratt Recanati Museo Civico e Villa Colloredo Mels dal 25 agosto 2023 al 7 gennaio 2024 e ricordatevi andando lì di vedere anche la sezione del museo dedicata alla storia marchigiana all'immigrazione marchigiana e soprattutto non potete non andare a vedere i luoghi leopardiani ci vediamo col prossimo video io Grazie a tutti.